Buongiorno a tutti, mi chiamo Daniele Dottiero Benvenuti nel mio bar Adesso vi andrò a preparare il mio cocktail che si chiamerà Fornstein cioè prima volta Questo cocktail, il mio cocktail avrà con un ingrediente di un prodotto di botteca che ne andremo a pensare una quantità di 4 cl La prima volta non si scorda mai La prima volta non si scorda mai Poi andiamo a prendere il latte Ne penseremo anche di questo prodotto analfolico 4 cl Adesso andiamo a prendere il mix alla banana e inseriamo uno splash Poi andiamo a prendere il mix al cocco e ne alzeremo uno splash Poi andiamo a prendere il nostro limonato liquido e ne alzeremo anche esso uno splash Poi siamo da parte che poi sto calzando Poi andiamo a prendere il mio compete Poi andiamo a prendere il nostro livello Poi andiamo a prendere il mio Sì, questa è la mia prima gara. Sì, questa è la mia 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 gara.